e salve a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video sono franche 494 siamo alla stazione di salussola per passare un treno stanno per arrivare due treni ci sarà l'incrocio lo filmerò e qua possiamo vedere anche i lavori sono arrivati sono arrivate nuove lì c'è il pl e ci sono delle nuove armature in ferro nei bordi della stazione fuori dalla banchina e qui possiamo vedere i binari e tra poco starà per passare i due treni che vanno al binario 2 per biela san paolo e il treno che arriverà al binario 1 per santia e li vedremo oggi li filmerò come bande arancioni nuove armature e il treno sta per arrivare li possiamo vedere una veduta in direzione biela san paolo e laggiù una veduta in direzione santia che ragazzi eccolo sta arrivando attenzione rispettiamo il distanziamento sociale e ricordiamo all'utilizzo della mascherina grazie per la collaborazione è arrivato e adesso aspettiamo il 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 treno al binario 1 che va a santia eccolo sta arrivando è il treno al binario il treno al binario il treno al binario è stato esatto eccolo qui ed eccolo sta partendo anzi stanno partendo entrambi i treni e anche l'incrocio a salussola quindi novità per il cantiere ripeto nuove armature e ci sono le bande arancioni abbiamo visto anche l'incrocio a salussola e niente per questo video è tutto ragazzi lasciato mi piace iscrivetevi al canale ciao a tutti